Allora, è domenica. Ah, è giusto per farvi capire. Questo sono io e questo è il mio maglione in pigiama. E come ho già detto, è domenica. Solitamente alla domenica mi sveglio dopo l'ora di pranzo, mi alzo dal letto, mangio un paio di biscotti e il cioccolato, bevo una tazza di latte e mi butto sul divano. E in genere in questo momento della domenica sono le 3 e ho ancora il pigiama. Così inizio a pensare a tutte le cose che potrei fare invece che stare sul divano. Potrei cambiarmi, mettermi una maglietta e uscire a fare una passeggiata. Certo uscendo mi accorgerai che non è bel tempo. Vabbè uscirei lo stesso, però magari con un maglione e una giacca. Poi dopo aver ballato e cantato sotto la pioggia, andrei in macchina, alzerei al massimo il volume della musica e mi metterai a guidare per rinassarmi. Poi suonerei a casa di un mio amico e andrei da lui a vedere la partita. Ci muoviti, che sta per iniziare. 10 euro a mio favore. Ma mentre penso a tutto questo e altre mille cose che avrei potuto fare, mi accorgo che sono le 8 e anche questa domenica sono passato dall'avere ancora il pigiama all'avere già il pigiama, senza aver fatto nulla. Domenica del cazzo. Domenica del cazzo. Domenica del cazzo.